La nebbia, anche se non piace da una sgradita presenza, sta portando dei benefici all'ambiente. La coltre grigia presente da giorni favorisce la condensazione delle particelle di PM10 che appesentite cadono al suolo rendendo più respirabile l'aria. Questo porta dunque dei benefici all'inquinamento che ha raggiunto livelli molto alti. Si tratta però di un piccolo dato positivo perché secondo gli esperti ARPAV la situazione rimane critica anche se sono stati registrati dei miglioramenti. Dal centro meteo di Teolo i tecnici non prevedono miglioramenti climatici. Si prevede l'arrivo di aria più secca da nord che potrebbe favorire una leggera ventilazione con un parziale ricambio della massa d'aria. Sulle zone orientali la qualità dell'aria diverrà accettabile, altrove resterà accettabile e scadente.